Buon pomeriggio a tutti. Io devo portare i saluti della consigliera Francesca Cappellecchi, consigliera naturalmente del consiglio delettivo dell'Istituto Benio Culturali, mi può essere presente perché i treni sono in ritardo, sono in ritardo da Ravenna, figuriamoci da Parigi. Quindi io naturalmente parlerò dopo anche come istituto, cederei subito la parola a Roberta Turicchia che è invece partner di questo evento dedicato a un maestro dei bibliotecari italiani e Roberta Turicchia è la presidente dell'Associazione Italiana Biblioteca e Sezione e Viglia Romagna.